Un saluto a tutti amici di Hitech Italia Whatsapp è possibile utilizzarlo su PC? Certo che si, oggi andremo a vedere come E' una cosa veramente molto semplice utilizzare Whatsapp su il computer Ciò che serve è uno smartphone connesso ad internet Ed un computer connesso ad internet Bisogna andare qui Io uso Google Chrome o voi utilizzate quello che volete Digitare semplicemente Whatsapp Nella barra di ricerca E come vedete ci esce come prima ricerca La home di Whatsapp, il sito di Whatsapp Però qui sotto c'è Whatsapp Web Cliccando su Whatsapp Web ci si apre questa pagina E qui ci dice Utilizza Whatsapp sul tuo telefono per scannizzare il codice Quello che c'è da fare è dal dispositivo mobile Andare su Whatsapp Nelle impostazioni qui in basso a destra Per gli android invece basta andare Basta cliccare il tasto impostazioni E andare in Whatsapp Web Come vedete Cliccando su Whatsapp Web E andando su scannerizza il codice Leggerà in modo rapidissimo Il codice del computer E come vedete qui siamo connessi su Whatsapp Qui come vedete abbiamo tutti i nostri contatti Io per privacy non li mostro E basterà cliccarci per aprire una nuova chat Quindi questo è il funzionamento di Whatsapp Web Una cosa veramente semplice ed utile Per chi magari trascorre molto tempo in ufficio Comunque seduto al computer E non ha la possibilità di estrarre sempre lo smartphone Quindi una cosa veramente utile Semplice e facile da utilizzare Spero che questa guida sia stata utile per voi Un saluto a tutti da Hitech Italia Ci vediamo presto con un nuovo video Ciao 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 Ciao